Il Festival Letterario è sempre una buona occasione di incontrare il proprio pubblico, quindi di avere un'idea più concreta di chi sia quel misterioso interlocutore che sta dietro la pagina bianca. E poi sono anche delle occasioni di incontrarsi fra scrittori, esponenti dell'industria editoriale, quindi in qualche modo tastare il polso all'editoria. Poetessa, ora scrittrice, cosa spinge un'autrice a scrivere una poesia o un romanzo? Io ho cominciato con la poesia e per molti anni ho pensato che avrei scritto soltanto poesia. La prosa è venuta in qualche modo attraverso il cinema. Per me la poesia è un lavoro che si fa ai limiti del linguaggio, una zona di confine. La prosa è diversa, più animata dal desiderio di raccontare una storia, più o meno lunga, più o meno complessa, ma comunque di raccontare una storia. Tre aggettivi per descrivere il Women's Fiction Festival. Io direi che è stimolante, frizzante e rilassante.